Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questa è la sesta uscita delle minature di One Piece, Shanks il Rosso. Ecco un altro personaggio che non fa parte di Mugiwara, ma che per Rufy è comunque molto importante. E poi ragazzi, tra l'altro, sono contento che non escano tutti i Mugiwara di fila, ma che escono anche altri personaggi fighi come Shanks. Poi vabbè, ovviamente i Mugiwara devono uscire, e ci sta. Però ecco, tutti insieme poi è già troppo scontato, cioè sono già troppo scontate le uscite. Invece così, bene bene, io adesso non mi ricordo in ordine tutte le uscite, so qual è la prossima perché l'ho vista, adesso la vedrete anche voi insomma. Comunque sono contento che qua ci sia Shanks. E sono anche molto curioso di vedere il poster, vabbè, comunque non importa. Prima di cominciare ragazzi vi ricordo che se vi siete persi le altre uscite delle minature di One Piece, in descrizione trovate la playlist con tutte le minature di One Piece. E se non avete visto le recensioni delle minature di Naruto, in descrizione trovate anche la playlist con le minature di Naruto, nel caso non le aveste viste. Detto questo direi di non perderci in chiacchiere, direi che possiamo cominciare subito col nostro video. Allora, intanto direi di aprire la confezione che come sempre ha questa plastica, che è un velo di cipolla. Cioè guardate, io non mi sto neanche sforzando più di tanto. E questa si apre, si strappa. Vabbè, si fa meno fatica però rischia di rovinarsi di più. No, però vorrei far notare che comunque è meno rovinato dei fascicoli delle minature di Naruto. Incredibile raga, incredibile. Comunque, come sempre prima vediamo il fascicolo, quindi la minatura mettiamo un attimo da una parte. Ecco qua il nostro Shang-Chi il Rosso in copertina, molto bello. Bella la copertina di questo fascicolo. Andiamo a vedere, non ci spoileriamo il poster. Eccolo qua, Shang-Chi il Rosso. Qua dà un po' di dettagli, insomma, spiega tutte le cose. A 39 anni già imperatore, non so se... Cioè, ecco. Comunque, a Rufy, vabbè, sarà imperatore a 19, ma dettagli. Comunque, tanta roba, Shang-Chi è molto bella. Qua tutti i dettagli. Vediamo il poster. Ok, mi ha un po' deluso. Sì, sono sincero, mi ha un po' deluso, mi aspettavo di più. Mi aspettavo molto di più, tipo un poster di Marineford, o con la sua ciurma, o con Rufy. Sì, mi ha deluso. Comunque, dai. Cioè, tutto sommato, c'è Shang-Chi, ci può stare. Però me l'aspettavo diverso, ecco. Mettiamola così. Poi, qua abbiamo alcune scene. Ecco questa con Rufy, ovviamente, con la sua ciurma. Quello che ho appena detto. Qua Mioc. Dracul Mioc, nemico giurato di Shang-Chi. Eh, sì. Comunque, qua altre cose su Shang-Chi. E poi, ragazzi, la prossima uscita è Nami. Un'altra di Mugiwar, la settima uscita. Non ha il Climatact. Mi sembrava ce l'avesse, però vabbè, forse... Beh, mi sono sbagliato. Non mi importa tanto, insomma, è uguale. E niente. Prossima settimana Nami. Tra l'altro fa molta paura. Cioè, che faccia ha... Fa un sacco paura, raga, vi giuro. C'è la lingua disegnata. Mamma mia, non so nemmeno se comprarla. No, vabbè, ovviamente la prenderò. Comunque sia, questo era il fascicolo. Ora passiamo alla miniatura. È molto schiacciata, devo dire. L'altezza è più o meno come quella degli altri personaggi. Però, vabbè, adesso vedremo. Ci ho fatto caso adesso che manca il braccio, no? Cioè, ovviamente è logico che manca il braccio. Però ci ho fatto caso adesso, ah com'è. Vabbè, lo vedremo dopo. Intanto apriamola. Eccoci qua, leviamo la plastica che lo tiene ben saldo al resto della confezione. E prendiamolo insieme alla base. Che è sempre staccata. Le miniatura di una russa hanno la base attaccata. Questi qua invece no. Vabbè, attaccheremo noi. Forse perché è talmente difficile da attaccare che l'accetta dice, ma sta cosa, ma non abbiamo mica tempo da perdere. Ma attaccatevele da soli. Probabile. Che poi volendo sta anche in piedi da solo perché si arregge sulla spada. Cioè, vedete, non si arregge sui piedi, si arregge sulla spada. Vabbè, meglio così. Che poi ci ho fatto caso adesso. Proprio a causa della spada la base non si può mettere. Però dettagli. Meno male sta in piedi anche senza. Comunque allora, gli ho dato un attimo un'occhiata. Miniatura bellissima. A parte i peli delle gambe sembrano veramente la pioggia che disegnavo io alle elementari. Però comunque i dettagli ci sono. Nel resto della miniatura, eh. Cioè, guardate comunque il volto. Con la cicatrice. Ora si mette a fuoco magari. Con la cicatrice, la barbetta, l'espressione, i capelli sono quelli. E meno male. La spada. Molto bello, raga. Molto... I pantaloni, tra l'altro, voglio far notare che sono uguali a quelli... Cioè, a come ce li ha lui. Ma non proprio lo stesso stile. Proprio anche le linee sono le stesse. Partono dagli stessi punti e arrivano agli stessi punti. Cioè, uguali, uguali, spiccicati. A quelli che ha Shanks. Cioè, bellissimo. Poi anche il dettaglio, là, della manica chiusa. Perché gli manca il braccio, bellissimo. Cioè, anche il dettaglio laggiù in fondo hanno curato. Cioè, bellissimo. Anche qua, questo svolazzare del mantello. Guardate. Molto, molto bello. Mi piace. Davvero tanta, tanta roba, ragazzi. L'unica cosa, ecco, magari a vederlo così sembra che abbia la testa un po' piccola. Non so, ditemi se anche a voi fa questa impressione. Comunque sia bella. Molto, molto bella. Ora, come sempre, ve la ruoto. La faccio vedere così, ruotandola. Per farvela vedere meglio. Guardate, guardate anche il mantello. Troppo bello. Bello, veramente, veramente, veramente bella. Mi piace, sì. Bene, raga, questa era la sesta uscita delle miniature di One Piece. Shanks il rosso. Allora, la miniatura mi è piaciuta molto. Sono sincero, mi ha un po' deluso il fascicolo con il poster. Speravo in un poster migliore. Però, vabbè, comunque, tanta tanta roba. Detto questo, raga, io spero davvero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Passate dal profilo di Instagram, attivate la campanellina. E fatemi sapere anche se pure a voi è piaciuta questa miniatura, cosa ne pensate. Insomma, ditemi un po'. Ditemi anche se le state comprando anche voi. Se prendete solo quelle dei vostri personaggi preferiti. Insomma, ditemi un po'. Io per adesso le prendo tutte. Anche perché non vedevo l'ora che la Shattery facesse questa collezione. Anzi, non me l'aspettavo nemmeno. E mi sarei recuperato la collezione intera. Invece adesso prenderla ogni due settimane è molto meglio. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, raga.